Buongiorno e ben trovati. Dopo quattro lunghi mesi di riposo forzato dovuto al coronavirus, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Iniziamo con i nostri itinerari sul territorio, servizi speciali sulle località, sugli eventi, sulle manifestazioni. Intervisteremo gli operatori del turismo, sicuramente uno dei settori più colpiti. Ascolteremo albergatori, ristoratori, balneari per capire le iniziative adottate per la ripresa e per garantire la vacanza in tutta sicurezza. E poi vi daremo indicazioni su dove poter alloggiare. Mi raccomando seguiteci numerosi sulla nostra pagina facebook ufficiale di Corriere Turismo. A presto, ciao!